Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale quello che ad oggi è probabilmente il migliore drone Love Coast del 2021. Il drone di cui vi sto parlando è lui, l'MJX Bug 16 Pro, questo drone Love Coast che ha caratteristiche sicuramente super interessanti e che ha un qualcosina in più rispetto ai suoi concorrenti. Questo video infatti è solo un video di presentazione, ho deciso di dividere questa recensione in due parti appunto perché in questa voglio spiegarvi cosa diciamo in più lui rispetto a lui, l'F11 4K Pro o rispetto a lui, lo ZLRC 908 CAN. Questi due droni Love Coast che sono i suoi diretti concorrenti, poi ZLRC ne ha altri molto simili, il 906 Pro, Pro 2, Pro Max, tutti i droni che ho recensito qua sul canale, però dal punto di vista diciamo delle caratteristiche sono sempre molto simili uno all'altro, quindi in questo momento ho portato qua lui ma potevo portarvi qua un 906 Pro e le cose erano più o meno le stesse. Quindi cosa ha di diverso lui rispetto a loro? Allora ci sono piccoli dettagli che lo rendono diciamo un drone sicuramente super interessante per essere un drone low cost, perché questi droni low cost e intendo tutti questi droni low cost comunque al giorno d'oggi sono diventati droni incredibili, cose impensabili fino a poco tempo fa che droni di queste fasce di prezzo potessero raggiungere prestazioni e diciamo qualità video e foto di questo livello, era una cosa davvero impensabile, adesso qualsiasi drone di questi fa cose incredibili e dal punto di vista del volo hanno raggiunto una sicurezza e un controllo e una qualità anche nel volo fantastica davvero fantastica soprattutto poi nella sicurezza. Allora adesso sposto un attimo loro e parliamo di lui. Questo drone della MJX, il Bag 16 Pro, questo marchio comunque MJX che fa prodotti sicuramente di qualità ottima nella sua fascia di prezzo, ha creato questo prodotto che sicuramente è probabilmente il miglior drone ad oggi low cost. È il più costoso di quelli che vi ho fatto vedere fino adesso, quello sicuramente sì però ha un qualcosina in più che giustifica sicuramente il prezzo. Allora innanzitutto guardiamo il drone che ha una chiusura particolare dei bracci praticamente molto molto simile a quella del Parrot Anafi, quindi i bracci si chiudono, i due anteriori si chiudono in avanti, i due posteriori indietro che da chiusi ci danno un drone molto compatto dal punto di vista o meglio molto snello dal punto di vista della larghezza ma molto molto lungo come lunghezza perché ovviamente chiudendo i bracci anteriori in avanti la lunghezza diventa davvero importante. Tutti questi drone low cost che avete visto sono droni che pesano più di 500 grammi quindi rientrano tutti nella stessa categoria di peso quindi per tutti questi droni ci vuole il patentino online, ci vuole un'assicurazione e con tutto quello che poi comporta la possibilità di volo dati per questa tipologia dei droni. Dal punto di vista delle caratteristiche ragazzi questo drone è incredibile per quanto riguarda la videocamera perché? Perché questo drone ha qualcosa in più dal punto di vista della videocamera rispetto a loro? Perché ha un 4k mentre lo ZLRC 4k non ha nessuna versione a un 2,7k quindi nessuna versione voi acquistate di questo drone che sia 906, 908 è sempre un 2,7k per quanto riguarda i video. Mentre lui, l'F11 4k Pro si ha un 4k quindi è simile dal punto di vista della qualità video però lui, l'MJX Bug 16 Pro ha un 4k con un bitrate anche abbastanza importante perché raggiunge i 50-55 megabit per secondo. Quindi un bitrate direi davvero niente male per un drone low cost e qua invece abbiamo dei bitrate più bassi anche se la qualità dell'F11 4k Pro dal punto di vista video è davvero fantastica però qua secondo me si ha un qualcosina in più. E poi la stabilizzazione sicuramente la stabilizzazione migliore fino adesso l'avevamo con lui sebbene ha una stabilizzazione gimbal su due assi e su un terzo elettronico mentre qua abbiamo una stabilizzazione su tre assi meccanica però non è secondo me a livello di lui anche se appunto anche il prezzo è più basso rispetto a lui però qua abbiamo un qualcosina in più ancora perché abbiamo una stabilizzazione meccanica su tre assi più una stabilizzazione elettronica quindi abbiamo davvero un'ottima qualità dal punto di vista della stabilizzazione che davvero diventa una cosa utilissima soprattutto nel 4k che ovviamente è più difficile stabilizzare di una risoluzione più bassa soprattutto se poi abbiamo anche un bel bitrate come in questo caso. Poi il drone dal punto di vista della qualità dei materiali della componentistica non è niente male perché parliamo sempre di un drone low cost si assomigliano un po tutti da questo punto di vista forse lui un pochino meglio o più simile a lui z lrc qualcosina in meno dal punto di vista della qualità delle plastiche dicendo però è anche il più economico dei tre quindi va valutato anche questo anche se attualmente ragazzi questo drone vi lascio il link in descrizione è ad un prezzo sicuramente molto abbordabile perché si avvicina al prezzo di lui ma qua si ha un qualcosina in più e poi una cosa che volevo farvi vedere è anche il radiocomando il radiocomando che secondo me è un bel radiocomando fatto bene materiali anche qua secondo me più che buoni probabilmente molto simile a quello dello f11 4k pro come qualità di materiali anche se quello delle f11 4k pro adesso ve lo faccio vedere è un po più accattivante per quanto riguarda l'estetica perché ha il telefono che si mette qua sopra in maniera diciamo con un supporto secondo me ben fatto e poi essendo qua tutto lucido è davvero affascinante ma dal punto di vista puramente dell'utilizzo sono molto molto simili un po più scadente il radiocomando dello z lrc rispetto a loro è una cosa che potevano fare qua che non hanno fatto visto comunque il drone è il più costoso dei tre e mettere delle batterie ricaricabili nel radiocomando invece no vanno due batterie stilo che dobbiamo mettere noi non è questo il problema o meglio non è un grosso problema però qua abbiamo una batteria ricaricabile già inclusa quando nello z lrc in questa versione anche qua vanno messe delle batterie a stilo mentre nella versione 908 pro pro max adesso non mi ricordo tutte le versioni che ho comunque in alcune versioni hanno il radiocomando con la batteria già inclusa mentre nel 908 can abbiamo le batterie da inserire come qua poi dal punto di vista delle informazioni che abbiamo nel display sono più o meno tutti simili le funzioni ovviamente anche del radiocomando sono simili per tutti e tre i droni per muovere il gimbal su e giù abbiamo la rotellina come l'abbiamo anche qua nel f11 4k pro mentre nello z lrc in qualsiasi versione con qualsiasi radiocomando abbiamo i due tastini ed è una cosa che ho sempre odiato ho sempre diciamo dato come difetto dei prodotti z lrc poi dal punto di vista del volo ragazzi sono praticamente tutti e tre identici volano che è una meraviglia tutti e tre perché comunque tutti hanno un comparto tecnico veramente importante con il gps barometro quindi giroscopio quindi hanno tutto quello che serve in più lui ha anche l'optical flow ce l'hanno anche tutti i vari z lrc mentre l'f11 4k però non ha l'optical flow però non se ne sente la mancanza ve lo dico subito è un drone che vola benissimo come poi avete visto che nella recensione che ho fatto anche senza optical flow non se ne sente la mancanza ovviamente se doveste volare al chiuso in quel caso sì ma altrimenti all'esterno è il comparto tecnico gps barometro giroscopio funziona talmente bene che non se ne sente assolutamente la mancanza comunque qua abbiamo l'optical flow poi abbiamo questi due sensori ma sono finti non sono veri come non sono veri questi qua anteriori quindi sono solo dei vetrini che veramente vero è solo l'optical flow però qua abbiamo un'altra cosa in più se state a guardare abbiamo un led di illuminazione praticamente come abbiamo sui droni importanti di case dgi quindi con il tipo con il dgi air 2s con il dgi air 2 questi droni che costano veramente tanto hanno anche loro un led qua sotto come a lui che possiamo attivare o disattivare dal radiocomando con il tasto qua sopra per illuminare la zona di atterraggio se dovessimo utilizzare in condizioni di scarsa luce quindi se lo utilizziamo al buio e dobbiamo atterrare ovviamente l'optical flow non riuscirebbe a visualizzare il terreno perché c'è poca luce quindi si va ad azionare il led di illuminazione del terreno e questa è una cosa non da sottovalutare se dobbiamo utilizzare il drone con poca luce soprattutto è una cosa incredibile a vela su un drone di queste fasce di prezzo perché vi ripeto lui attualmente è in offerta link in descrizione se dovete acquistarlo acquistatelo adesso perché è in offerta a 215 euro ed è un prezzo veramente incredibile di questo drone ve lo dico perché praticamente costa poco di più dell'f11 4k pro poi prossimamente arriverà il video della recensione in volo ma vi dico subito che è un drone incredibile quindi vale veramente quel poco in più che costa dell'f11 4k pro e ovviamente vale di più dei vari z lrc però si rizzetta lrc la differenza di prezzo aumenta e perché comunque loro costano diciamo un bel 50 euro in meno tranquilli rispetto a lui però attualmente col prezzaccio che ha tanta tanta roba poi volevo farvi vedere il gimbal fa strano l'apertura dei bracci perché come vi ho detto è in avanti mentre tutti gli altri doni ovviamente chiudono indietro anche il braccio anteriore il gimbal vedete che bel gimbal importante che ha è fatto fatto bene ovviamente non abbiamo le plastiche di un prodotto DJI ma abbiamo comunque un gimbal ben ben fatto l'unico difetto che ho trovato a lui o meglio l'unico difetto che mi sono ritrovato che dopo un paio di giorni di utilizzo il gimbal o meglio la videocamera non si muoveva più su e giù cioè non prendeva più il comando su e giù allora ho aperto la copertura qua sopra svitando le viti qua sotto e ho trovato che c'era un filo di saldato praticamente quello che alimentava il movimento dei motori su e giù era di saldato quindi l'ho risaldato e tutto è tornato normale perché comunque ragazzi questi drone low cost sono assemblati anche dal punto di vista delle saldature diciamo della componentistica non di altissimo livello perché per costare così poco e darvi così tanto da qualche parte devono comunque risparmiare e l'assemblaggio non è sicuramente il loro punto forte però è un prezzo che vale la pena diciamo pagare per avere questi prodotti low cost e poi una cosa di cui volevo parlarvi come caricare la batteria la batteria ragazzi è questa una batteria bella importante perché infatti questi donne come vi ho detto non pesano poco abbiamo delle batterie 3s da 3200 mini ampere quindi delle batterie belle importanti al lipo ovviamente e qua abbiamo la presa di ricarica che si ricarica con una qualsiasi alimentatore con cavetto type c e le andiamo a ricaricare e devo dire che ci danno secondo me tanti minuti di volo sono dichiarati 28 non si arriva ovviamente a 28 ma probabilmente è uno dei dei tre quello che vola di più come minutario sono molto simili e però forse lui qualche minuto in più ce l'ha a livello di rumorosità direi che abbastanza rumoroso quello sì però è un drone secondo me fantastico cioè come vi ho detto incredibile al giorno d'oggi essere arrivati ad avere dei droni low cost con queste caratteristiche davvero fantastiche poi come vi ho detto arriverà la seconda parte di questo video in cui ve lo faccio vedere in azione dove lo proviamo in overing dove proviamo la qualità video e foto dove lo proviamo nel return to home dove lo proviamo in quello che sono diciamo appunto tutte le sue caratteristiche di drone cioè quello per cui è stato creato però appunto ho deciso di fare questo video dedicato proprio come non come unboxing perché comunque tanto il drone poi l'avevate già visto su altri video ma proprio per farvi una spiegazione di cosa di più lui rispetto agli altri marchi low cost che sono simili sì a lui ma lui ha quel qualcosina in più poi voglio parlarvi dell'applicazione l'applicazione è sicuramente ben fatta semplicissima applicazione per far pilotare questo drone della mjx l'applicazione è davvero di una semplicità incredibile ma funziona davvero bene non ha tantissime cose perché come dico sempre meglio averne poche e farle bene che avere cinquantamila funzioni e farle male o che tante manco funzionano allora a quel punto serve a poco tipo z lrc ha un sacco di funzioni l'applicazione ma certe cose non funzionano neanche quindi a quel punto è meglio avere un'applicazione semplice fatta bene con le cose necessarie e quelle che ha a farle in maniera buona ed è quello che succede con questo drone con la sua applicazione quindi ragazzi questo come io ho detto era solo la prima parte di un video dedicato a lui le mjx bug 16 pro questo drone che ad oggi sembrerebbe essere il miglior drone low cost sul mercato però per essere sicuri che sia davvero così non vi resta che guardare la seconda parte del video quella che verrà prossimamente dove lo proveremo lo testeremo in tutte le sue caratteristiche come vi ho detto e lì veramente vedrete se è il miglior drone low cost attualmente sul mercato quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato le mie opinioni le mie considerazioni di questo drone rispetto ai suoi diretti concorrenti le f11 4k pro di sjrc o i vari zlrc in questo caso 908 can ma anche 906 pro pro 2 pro max e tutti questi i droni di zlrc se tutta questa mia comparazione le mie considerazioni vi sono piaciute e vi sono state utili lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler anche di lui sono arrivati quindi tante cose arrivano sul mio profilo instagram quindi iscrivetevi lì se vi va e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale termine offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial una novità ciao